donna di 55 anni trovata morta in casa nel centro storico di pesaro nuovo rialzo di contagi nelle marche 698 casi in un giorno sequestrate 700 maglie e felpe contraffatte al mercato san decenzio metalmeccanici in sciopero chiedono il rinnovo del contratto benvenuti al nostro telegiornale di rossini tv oggi è giovedì 5 novembre e in apertura parliamo di un'ultima ora riguardante il ritrovamento di una donna di 55 anni trovata morta nella sua abitazione di via fattori strada del centro storico perpendicolare al corso 11 settembre polizia vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sul posto poco dopo le 13 rispondendo alla chiamata d'allerta di alcuni vicini di casa insospettiti dal non vedere la donna e dal non sentirla rispondere al campanello da alcuni giorni il decesso della donna sembrerebbe avvenuto per cause naturali ora al vaglio dell'esame autoptico predisposto dalle autorità competenti ed ora i consueti aggiornamenti per quanto riguarda i dati del coronavirus nella nostra regione marche che purtroppo segnano un nuovo picco sono infatti 698 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nella regione marche su 3.349 tamponi 2248 nel percorso nuove diagnosi e 1.001 nel percorso guariti di 698 casi sono 101 quelli sintomatici la provincia di pesaro urbino risulta la meno colpita con 79 casi sono invece superiori alle 100 unità i casi nelle altre province col dato più alto di 212 casi in un giorno nella provincia di ancona sale dunque al 31 per cento la percentuale di tamponi positivi al contagio crescono anche i ricoverati che salgono a 477 cioè 25 in più di ieri di questi sono 55 quelli attualmente in terapia intensiva ovvero due in più rispetto a ieri parliamo ora di un'operazione a cura della guardia di finanza di pesaro effettuata al mercato cittadino del martedì quello che si effettua al san decenzio vediamo allora di cosa si tratta in questo primo servizio di daniele sacchi esponeva chanel e moschino ma pure loghi graditi a teenager e bambini da tiktok alla casa di carta da minecraft a fortnite brand di case di moda o marchi di serie tv e programmi youtube note ai più giovani legati da un comune denominatore erano tutti marchi fasulli e applicati su maglie e felpe messe in vendita al mercato di pesaro nel parcheggio del san decenzio questa l'attività illegale scoperchiata dalla compagnia di pesaro della guardia di finanza che durante il settimanale mercato cittadino ha sequestrato 700 capi d'abbigliamento accessori con marchi contraffatti dalla bancarella di un ambulante le fiamme gialle si trovavano infatti al san decenzio per un controllo mirato alla prevenzione e al contrasto di illeciti in ambito economico commerciale l'attività di vendita dell'ambulante in questione ha subito attirato l'attenzione dei finanzieri ispezionato lo stand espositivo si è presto rilevata la contraffazione della merce non solo l'ambulante risultava già gravato di simili precedenti allora l'ispezione si è allargata all'abitazione privata dove è stato trovato una sorta di deposito con la stessa tipologia di capi d'abbigliamento la stima del valore complessivo della merce sequestrata è di circa 14 mila euro l'ambulante è stato denunciato per i reati di ricettazione e introduzione nello stato di prodotti falsi destinati al commercio quella di oggi è stata una giornata di sciopero nazionale dei metalmeccanici che invocano da mesi la riapertura della trattativa sul rinnovo del contratto di lavoro sciopero anche a pesaro che ha portato ad un presidio davanti la sede di confindustria ci troviamo in via cattaneo nel centro storico di pesaro di fronte alla sede della confindustria pesaro e urbino dove come potete vedere alle mie spalle sono radunate le sigle sindacali cgl cisle e will legate alla categoria dei metalmeccanici categoria che oggi ha incrociato le braccia astenendosi dal lavoro in linea a uno sciopero nazionale che nella nostra provincia è stato proclamato per otto ore sciopero che vuole portare l'attenzione su un contratto di lavoro che continua a non essere rinnovato nonostante le richieste e le trattative interrotte da circa un anno sono dieci mesi che ci è scaduto il contratto e dopo 13 incontri ci siamo trovati un atteggiamento ostinato da parte di federmeccanica che malgrado le nostre esistenze non ha voluto dare risposte ai lavoratori metalmeccanici in un contesto complicato come quello che abbiamo davanti sui temi della salute sicurezza nei luoghi di lavoro sui temi della professionalità si parla tanto di competenze dei lavoratori di come stare dentro un mondo che cambia quello che chiediamo appunto di scommettere sui lavoratori ma di riconoscere anche i giusti le giuste professionalità non ci hanno dato risposte neanche sulla possibilità di allargare la contrattazione dentro i luoghi di lavoro quella aziendale e per quanto riguarda il salario la proposta che ci hanno fatto non è una proposta quindi non non dà uno spazio contrattuale una risposta anche quelle che sono le esigenze economiche dei lavoratori per tutti questi motivi qua oggi abbiamo scelto di fare sciopero quindi di dare un segnale forte dentro i luoghi di lavoro a quello che il mondo imprenditoriale e abbiamo scelto di manifestare qui davanti a confindustria quello che è il nostro disagio lo facciamo nel rispetto delle normative covid lo facciamo con un presidio di alcuni delegati che sono venuti qua a dare sostegno alla nostra voce per avere il contratto e dare risposta ai lavoratori mental meccanici non è uno solo uno schiaffo morale ma è uno sgarbo che questi stanno facendo verso i lavoratori perché chiaro che stanno approfittando della pandemia per fare carta straccia del contratto nazionale perché oggi è una data il 5 novembre è un anno esatto che abbiamo presentato federmeccanica la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale è partita la trattativa dal 5 novembre 2019 e già allora quando non si sapeva cosa voleva dire pandemia o covid che erano parole che pensavamo erano distanti da noi ci rispondevano picche o non ci davano risposte sul salario poi scoppiata la pandemia e hanno approfittato di questa cosa come hanno fatto anche in passato per rompere il tavolo di trattative ed è per questo che siamo davanti la sede di confindustria di pesaro ma anche davanti alle sede dell'altra confindustria d'italia perché non si può andare in piazza ma un segnale lo dobbiamo mandare le fabbriche le stiamo svuotando e diciamo confindustria come dicevate che erano indispensabili i lavoratori allora quando c'era il look down noi vi diciamo sono indispensabili anche adesso e riconoscete quello che è dovuto se no non ci fermiamo la prospettiva guardando come le indicazioni che ha dato confindustria generale federmeccanica ce ne sono poche però guardando l'adesione del nostro territorio adesso stavamo guardando con i colleghi di film e fiom i numeri delle persone si parla all'incirca di un 60 per cento di persone che si sono astenute da andare al lavoro cioè sono assisciopero contando che andando a vedere un po le fabbriche abbiamo fatto il giro dei capannoni per guardare essendoci anche molte persone smart working è chiaramente difficile quantificare più rispetto le altre volte però chiaramente l'obiettivo è che tante persone devono scioperare per far vedere alle aziende che c'è l'attenzione le aziende si dovrebbero rifarsi diciamo con il loro sindacato che è federmeccanica e confindustria per fare però fondamentalmente c'è un'idea del paese diversa che ha confindustria e dovremmo fargli cambiare quell'idea lì. Non si arresta la protesta dei locali contro le chiusure alle ore 18 imposte dall'ultimo dpcm a tal proposito a Fano si è svolto ieri il flash mob Ristor Italia in contemporanea diverse città italiane per invocare aiuti rapidi e la possibilità di rimanere aperti fino alle 22 vediamo tutto in questo servizio di Simone Celli. Di questo passo falliremo tutti entro tre mesi e finiremo per mangiare soltanto kebab e panini del McDonald's. Un po' allarme un po' provocazione è questo il messaggio lanciato da Ristor Italia dal ponte del Lido di Fano durante un flash mob avvenuto in contemporanea in tante città del mondo per ribadire i nodi ristoratori baristi e categorie affini alle restrizioni imposte per contenere e propagarsi del virus. A indignare la categoria è in primo luogo l'obbligo di abbassare la sala cinesca già dalle 18 come stabilito dall'ultimo anzi penultimo dpcm. La difficoltà di chiudere le 18 è quella di non avere almeno un 70% di incasso perso quindi questo nella misura in cui una ristorazione lavora al 100% durante il giorno ma l'80% di incasso è serale. In più abbiamo atteso mesi e mesi comportandoci bene e abbiamo anche valutato l'aspetto sanitario con tutti i dpcm e i protocolli e non siamo arrivati ad avere delle risposte per far presente che ormai è sotto gli occhi di tutti cioè chiudere alle 18 rispetto alle 22 o meglio chiudere alle 22 non creerebbe nessun disagio visto i protocolli e le attenzioni che abbiamo. Praticamente fra tre mesi ci vedremo costretti in tanti a portare i nostri libri contabili al tribunale in modo che nessuno con questa attività per tutto questo tempo può andare avanti. Un mese, due mesi, tre mesi qui cominciano a essere tra i mesi prima e i mesi da adesso cominciano a essere 5-6 mesi e questo per noi ci porta ad avere una difficoltà a mantenere anche tutti i nostri dipendenti, i nostri dipendenti che sono chiaramente a cui va il nostro pensiero sicuramente perché avere 13 o 26 dipendenti a cui non puoi portare il pane quotidiano questa per noi è una cosa che ci fa veramente male. Ristori Italia chiede aiuti certi e in tempi rapidi ma soprattutto la possibilità di rimanere aperti fino alle 22. Il turno serale viene infatti considerato essenziale per la sopravvivenza delle attività anche perché, complice la paura del contagio, di gente a pranzo se ne vede davvero poca. Chiediamo che a un certo punto ci sia portato almeno alle 22, visto che non si può più alle 24, però alle 22 per riuscire a fare un turno per lo meno, considerando che il 50% dei locali lavorano alla sera, perciò quelli sono tutti tagliati fuori. Mentre invece per quelli che hanno il doppio turno, che fanno il pranzo, fanno la cena, se chiudi alle 18 praticamente non puoi assolutamente mantenere un'attività che dovrebbe minimo avere un doppio turno con il solo lavoro del pranzo non si riesce a mantenere in vita un'azienda. Noi chiediamo di ritornare alla chiusura per lo meno alle ore 22, che ci permetta di salvare non solo quello che stiamo facendo, l'aspetto sanitario, essendo attenti su tutte le misure, ma salvare anche la parte economica delle aziende, perché facendo così l'attività di ristorazione va scomparendo e andremo a causare un'infinità di problemi a catena di altri settori legati alla ristorazione e di decine e centinaia e migliaia di persone a spasso. Ed ora vediamo questa intervista che abbiamo realizzato proprio qui negli studi di Rossini TV al titolare dell'azienda di vigilanza privata Vigilar, Alessandro Giuliani, perché ci spiegherà un'iniziativa molto particolare che ha dedicato ai propri clienti in questo momento molto difficile. Abbiamo pensato di sospendere il canone a quelle attività commerciali maggiormente colpite dall'ultimo DPCM, vale a dire bar, ristoranti, palestre, a cui ovviamente continueremo a offrire servizio di sorveglianza e vigilanza. Gli sospendiamo per il periodo di blocco il canone che paga. È un piccolo gesto per far sentire la nostra vicinanza in questo momento di difficoltà. Abbiamo fatto un riscontro tra il nostro database clienti, abbiamo circa 200 attività di questa tipologia e lo sospenderemo per il periodo che il Ministero, il DPCM sarà in vigore. Vigilar è dal 2000 che fa l'attività di vigilanza nella provincia di Pesor Urbino e nel 2019 abbiamo aperto una sede anche a Rimini dove sviluppiamo gli stessi servizi, offriamo gli stessi servizi di vigilanza. Abbiamo una società di installazione nostra che installa impianti antifurto TVCC a cui garantiamo un servizio di pronto intervento in caso d'allarme 24 ore su 24, quindi anche le abitazioni private forniamo un servizio 24 ore su 24, quindi anche in orario diurno. Va la nostra guardia giurata ed effettua il pronto intervento in caso di allarme. Si allargano i servizi di Vigilar con l'attivazione della Green Division, di cosa si tratta? Sì, già da marzo abbiamo attivato questa divisione che si occupa di sanificazione degli ambienti con apparecchiature particolari per cui ai nostri clienti e anche ai non clienti facciamo delle sanificazioni periodiche. L'ex consorzio agrario del porto di Pesaro sta per essere demolito. Il fabbricato, che versa in stato di totale degrado da anni, verrà abbattuto fra due tre settimane per lasciare spazio all'edificazione di un complesso residenziale di circa 80 appartamenti, il 60% dei quali risultano già venduti ancora prima della costruzione. Il governatore Francesco Acquaroli ha incontrato i presidenti delle province marchigiane in una riunione che il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Paolini, ha definito molto soddisfacente per la ricerca di coesione mostrata da Acquaroli sin nell'utilizzo delle risorse che arrivano dal Recovery Fund, sia per il lavoro di squadra predisposto per l'emergenza Covid. 400 libri appartenenti a Sergio Guerra, professore prematuramente scomparso in primavera a causa del Covid-19, sono stati donati alla Biblioteca di Lingue dell'Università di Urbino, facoltà in cui Guerra è stato per anni stimato docente di studi culturali britannici. Si intitola Chiara Ferragni, filosofia di un influencer, l'ultimo libro della filosofa Lucrezia Ercoli, in uscita proprio oggi per la casa editrice Il Melangolo. La direttrice artistica di Pop Sofia, docente all'Accademia di Belle Arti di Macerata, ha infatti dedicato un saggio alla fashion blogger e influencer più discussa della rete, che da anni divide il pubblico tra followers e haters. Ed ora passiamo allo sport con Vispesaro e Fano alle prese con una settimana di rivoluzioni tecniche. Ieri vi abbiamo mostrato la presentazione del nuovo allenatore della Visp, Daniele Di Donato, oggi invece ascoltiamo le prime parole del nuovo tecnico dell'Alma Juventus Fano, Flavio Destro. Io amo questo mestiere, appena ho avuto l'opportunità di avere questo lavoro, l'ho accettato con grande entusiasmo, perché è una piazza importante, una piazza che merita tante soddisfazioni e quindi sono venuto subito. È un momento delicato, un momento difficile e brutto, il calcio senza il sostegno dei tifosi ovviamente non è lo stesso, però purtroppo queste sono le regole, dobbiamo accettarle, dobbiamo farci forza, cercare di andare avanti e fare il risultato. Questa è stata sostanzialmente la scelta, stimiamo l'uomo, stimiamo la persona e soprattutto cercavamo in condivisione con il presidente e con il direttore sportivo, una persona con grande personalità che potesse aumentare e riaumentare l'autostima dei ragazzi per dargli grossa motivazione e grossa determinazione per affrontare le partite. E come tutti giovedì torna la rubrica I consigli dello chef. Buonasera, io sono Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero, quest'oggi abbiamo preparato cappellaccio ripieno di caprino, sottolineo dire caprino di Vittorio Beltrami, un guru della nostra territoria a livello di formaggi, che è all'interno del nostro cappellaccio con astice, burro acido e polvere di zenzero. È un piatto che ricorda la mia prima esperienza presso il maestro Gualtiero Marchesi. Facevamo un'insalata con lo zenzero cappesante astice e caprino, allora mi è venuto in mente di utilizzare questo caprino del nostro amico Vittorio, inserirlo in un cappellaccio, la pasta ripiena tipica del nostro territorio, delle nostre tradizioni, e abbiamo messo l'astice che viene dapprima cotto i carboni, aperto e viscerato, tagliato, scaloppato e inserito su ogni cappellaccio. In più abbiamo creato con dello zenzero in agrodolce una polvere che lo andiamo a spolverare all'uscita del piatto, ma la cosa più importante è sicuramente la mantecatura del piatto. Andiamo a fare un burro acido che dà questo contrasto, questo profumo al piatto e a mio avviso è un'esplosione di sapori unica che va dalla dolcezza del caprino all'acido dello zenzero e del burro acido e nuovamente la dolcezza dell'astice per regalarvi un boccone di dolcezza e acidità. Il piatto di questa sera è cappellaccio, ripino di caprino, burro acido, astice e zenzero. Venite ad assaggiare nel mio ristorante in un ambiente fantastico come state vedendo, dove ogni dettaglio, ogni movimento è curato, è pensato, è ragionato, è riflettuto, cioè i nostri camerieri vi serviranno in una maniera eccelsa. a mio avviso non sono dei camerieri, sono delle persone che trasmettono, sono dei trasmettitori di energia, trasmettitori di emozioni, trasmettitori di sapori, quindi trasmettono il nostro piatto fino alle vostre, fino ai vostri palati appunto per regalarvi un'esperienza unica, dall'accoglienza fino al dessert, fino alle coccole finali, tutto quello che serve per staccare dalla vita quotidiana è regalarsi un attimo di relax e di prendere da noi energia positiva da rimettere nel proprio organismo e dare una nuova vitalità alle vostre vite quotidiane. E allora davvero complimenti al nostro chef Daniele Patti che ci delizia sempre con le sue ricette, noi speriamo di deliziare la vostra serata perché questa sera si parla di sport su Rossini TV, infatti alle 21.15 torna insieme a Canestro. La seconda puntata che vedrà tra gli ospiti Walter Magnifico, Marco Filippoviti, Michele Zavagnini. La replica di questa seconda puntata sarà alle 22.30 e poi negli orari che vedete qui fino a domenica. E poi adesso andiamo a parlare della diretta che trasmetteremo sabato alle ore 16, non perdetevi questa partita in casa dell'Ital Service, chiaramente non si può andare al palanino pizza ma potete vedere la partita comodamente dal vostro divano mettendo sul canale 633. Ital Service Calciacinque Pesaro contro signor prestito CMB. Vi ricordiamo anche il Vallefoglia Magazine, domani torna infatti il nostro settimanale di informazione della città di Vallefoglia, vi aspettiamo quindi alle 19 in replica alle 23. Abbiamo detto veramente tutto, vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, adesso vi lascio con il meteo e l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa.